Procedura penale video lezione numero 27, l'ultima di questa serie di video lezioni. Altri mezzi di impugnazione ed esecuzione penale. La revisione. La revisione è un mezzo straordinario di impugnazione, è idoneo a travolgere il giudicato ed è esperibile senza limiti di tempo. Sono assoggettabili a revisione soltanto le pronunce irrevocabili di condanna, anche se di patteggiamento. La revisione della sentenza è ammessa nei casi previsti dell'articolo 630 e nelle ipotesi di nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate dimostrano che l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto ex articoli 529, 530, 531 e 630 lettera C. Ex articolo 630 la revisione è ammessa alla inconciliabilità dei fatti posti a suo fondamento con quelli di altra sentenza irrevocabile sopravvenuta revoca della sentenza pregiudiziale come ad esempio la revoca della sentenza di fallimento cui è seguita la condanna per bancarotta altro motivo falsità in atto in giudizio che hanno determinato la condanna oppure ancora sopravvenute prove di innocenza La Corte Costituzionale con sentenza del 2011 ha introdotto un quinto caso di revisione e cioè quando sia necessario conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo Possono proporre la revisione il condannato o il procuratore generale presso la Corte d'Appello La rescissione del giudicato La rescissione del giudicato è stato definito dalle sezioni unite un mezzo straordinario di impugnazione mediante il quale la Corte di Cassazione è chiamata a revocare una sentenza di condanna o di proscioglimento che ha applicato una misura di sicurezza qualora si sia proceduto in assenza dell'imputato incolpevolmente ignaro della celebrazione del processo a suo carico La legge 103 del 2017 abrogando la vecchia disciplina prevista dall'articolo 625 ter del codice di procedura penale ha previsto all'articolo 629 bis modalità e requisiti per avere accesso a questo mezzo di impugnazione Così il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo La richiesta è presentata alla Corte d'Appello nel cui distretto assede il giudice che ha emesso il provvedimento appena di inammissibilità personalmente dall'interessato o da un difensore munito da procura speciale autenticata nelle forme previste del 583,3 entro 30 giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento La Corte d'Appello provvede senza dell'articolo 127 e si accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado Errore giudiziario, responsabilità dei magistrati La norma sulla responsabilità civile dei magistrati contempla il diritto al risarcimento dei danni e non il diritto ad un'equa riparazione pecuniaria Tale riparazione è prevista invece per la custodia cautelare illegittima o ingiusta o per l'errore giudiziario con o senza carcerazione La responsabilità è configurabile solo in presenza di dolo o colpa grave Il diritto alla riparazione invece prescinde dall'elemento psicologico In tutte le ipotesi l'interessato può conseguire una somma di denaro o una rendita vitalizia L'esecuzione penale Il giudicato Il giudicato formale esprime l'immutabilità della sentenza Dunque sono irrevocabili le sentenze e i decreti penali contro i quali non è più ammessa impugnazione Il giudicato sostanziale invece esprime l'autorità e la vincolatività della sentenza in ambito penale ed extra penale La stabilità del giudicato è garantita dalla regola che l'imputato, condannato o prosciolto non può essere sottoposto a un nuovo procedimento per lo stesso fatto cosiddetto nebissimide Le sentenze di condanna irrevocabile vanno annotate per opportuna conoscenza nel casellario giudiziale Efficacia del giudicato penale in altri giudizi Nel nostro sistema la pregiudizialità del giudicato penale nel separato giudizio civile dipende dalla tempestività o meno con cui sia stata esercitata l'azione civile Se l'azione civile è stata esercitata in modo tempestivo e cioè prima che nel processo penale si sia giunti a sentenza di primo grado la sentenza di assoluzione in sede penale non pregiudica la causa civile Se l'azione civile invece è stata esercitata in modo intempestivo il processo civile deve essere sospeso fino a che la sentenza penale non diventi irrevocabile La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi promossi contro sia l'imputato che contro il responsabile civile se citato o intervenuto Il procedimento del giudice dell'esecuzione Il pubblico ministero interessato o il suo difensore possono proporre ex articolo 666 del codice di procedura penale l'incidente di esecuzione per risolvere le questioni attinenti all'esecuzione disciplinate negli articoli 667 e 676 ed in particolare per l'accertamento dell'identità fisica del detenuto correzione grafica delle generalità dell'imputato condannato applicazione dell'amnistia o dell'indulto applicazione di una nuova legge in esistenza o non esecutività del presunto titolo esecutivo Il procedimento della magistratura di sorveglianza la magistratura di sorveglianza si articola in un organo monocratico quindi il magistrato di sorveglianza e un organo collegiale che il tribunale di sorveglianza a volte si pongono entrambi come giudici di primo grado come giudici rispettivamente di primo o di secondo grado il magistrato di sorveglianza comunque quel magistrato che si occupa della sorveglianza e dell'esecuzione della pena si rinvia per il proseguo chiaramente al diritto penitenziario Rapporti giurisdizionali internazionali i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere sono disciplinati dalle norme della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo nel 1959 dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale se tali norme mancano o dispongono diversamente si applicano le norme del libro undicesimo del codice di procedura penale quindi il codice ha ribadito la prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina interna l'arrogatoria internazionale è richiesta verso un'autorità giudiziaria straniera o che proviene da un'autorità straniera di compiere un atto processuale ad esempio assumere un mezzo di prova, una notifica invece per quanto concerne il riconoscimento in Italia delle sentenze penali straniere questo può avvenire per taluni effetti penali quali la recidiva, pene accessorie e misure di sicurezza per l'esecuzione della pena principale e anche per gli effetti civili la legittimazione a promuovere il riconoscimento spetta al procuratore generale presso la corte di appello per gli effetti civili invece spetta al privato interessato decide sulla questione la corte di appello ed è ammesso il ricorso per cassazione per quanto concerne invece l'esecuzione penale all'estero è ricercata solo se non si ottiene o se non è possibile l'esecuzione in Italia tramite estradizione bene abbiamo finito questo ciclo di video lezioni di procedura penale chiaramente provvederò personalmente ad aggiornarle qualora vi siano delle riforme successive alla data odierna cioè il 4 agosto 2017 metterle online e provvederò anche ad aggiornare i riassunti reperibili su riassunti.eu grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti